Buon pomeriggio a tutti, cercherò di non abusare del vostro tempo essendo l'ultimo in agenda. Vado a parlarvi di questo progetto che ha avuto una fase di incubazione abbastanza lunga, anche perché, come farò vedere tra poco, il finanziamento accordato sulla linea del 4% era condizionato anche all'attivazione di un accordo per l'innovazione industriale, quindi all'avvio di un progetto di innovazione industriale in partecipio con aziende che vedesse coinvolti degli attori operanti sul territorio. L'argomento è quello dei trasporti intelligenti, qui abbiamo richiamato una delle azioni importanti della Comunità Europea che va sotto la DG della Smart Green and Interior Transport, il programma Orion 2020, e che prende atto della crescita del volume, degli scambi, dei movimenti, della crescita della complessità dei costi e anche dei consumi. Per cui esiste un'agenda che è articolata su diversi obiettivi, ma che fondamentalmente mira a ridurre consumi ed emissioni, mira a ridurre il tasso degli incidenti che sono legati a tutta la mobilità, sia in ambito veicolare che in ambito ferroviario, e poi tende a introdurre un grado crescente di automazione che se da un lato contribuisce sulla seconda linea, dall'altro dobbiamo pensare che abilita l'accesso alla mobilità personale anche a chi non è in grado di guidare un veicolo. Tutto questo sta evolvendo, da un lato verso la guida autonoma, pensando che il veicolo sia in grado di vedere, sia in grado di fare senso, ma dall'altro alla necessità di connettere i veicoli, perché è ovvio che per un grado crescente di automazione e la guida non ci si potrà basare soltanto su ciò che il veicolo percepisce nella vita di vicinanza, ma ci sarà bisogno di vedere un pochino oltre, quindi di utilizzare in modo pervasivo il mezzo radio. E allora ecco qui che veniamo all'agenda di un'associazione industriale che è la 5G Automotive Association, quindi quando si parla di 5G ormai esiste un consorzio che unisce per la prima volta in modo strutturato le manifatturiere delle telecomunicazioni con le manifatturiere del mondo automotive, e tutto questo è venuto dopo che noi abbiamo iniziato a parlare del progetto Energia, quindi diciamo abbiamo iniziato a lavorarci tre anni e mezzo fa, chiaramente sulla base di competenze e di attività che erano già in corso, ma in realtà l'attivazione è avvenuta solo un anno fa. E questi sono gli obiettivi richiamati da questa associazione industriale che sta cercando appunto di affrontare in modo strutturato così come il problema è anche declinato a livello europeo. Ora se parliamo di automazione, senza entrare nei dettagli, andiamo su una tabella che una società riconosciuta a livello internazionale ha declinato e passando dalla parte alta alla parte bassa possiamo essenzialmente qualificare il ruolo della connettività. Nella parte alta della tabella ci sono delle feature di automazione che più o meno oggi sono presenti su veicoli di fascia medio-valta, a volte singolarmente a volte in modo combinato, ma quando si parla di conditional automation si dà la responsabilità al veicolo di guardare l'intorno che significa che bisogna guardare anche oltre la curva o oltre l'edificio. Ed è su questo tema che si possa fare qualche esempio, perché ci interessiamo di veicoli commerciali, come ha detto anche l'elettrice, per doppio uso, che significa che possono essere concepiti e messi in circolazione con l'idea di adattarli anche al runtime, da un contesto di distribuzione di beni, tipo la Smile, all'operatività in condizioni di emergenza. Tra gli esempi sono il warning che un veicolo operante in condizioni di emergenza può inviare ai veicoli di circostanze per realizzare una corsia di emergenza virtuale, senza bisogno di canalizzare in modo permanente un'alteleviaria. Oppure il segnale che un veicolo in frenata brusca può inviare nelle videotele vicinanze per allertare chi lo segue che magari in condizioni di mancata visibilità ottica ci sia qualcuno che vada a tamponarlo. Questi sono tutti esempi in cui la connettività radio fornisce il supporto per un approccio cooperativo alla sicurezza di strada. Ora noi siamo partiti in questo contesto perché c'erano anche delle tecnologie esistenti quindi una tecnologia esistente per connettire i veicoli è una variante della Wi-Fi di cui oggi ci serviamo normalmente per accedere a internet e stando in ambiente domestico di lavoro c'era un'evoluzione in corso su sistemi cellulari, parliamo di 4G, LTE, per abilitare le connessioni da veicolo a veicolo ma mentre noi ragionavamo sullo sviluppo del nostro primo progetto è venuto fuori il tema del 5G in modo però rompente e le applicazioni della mobilità costituiscono oggi di sicuro il dominio verticale di maggior interesse proprio per lo sviluppo della tecnologia 5G. Ti prendo qui il famoso triangolo di cui parlava anche il collega Grazioso precedentemente perché con la connettività veicolare noi ci collochiamo da questo lato quindi di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di connessioni a bassissima latenza in Galato se necessario è trasportare anche volumi significativi di dati e per poter fornire supporto di connettività a una popolazione di veicoli come quella che vediamo oggi circa il suo strato abbiamo bisogno anche di capacità elevate quindi se 5G da un lato ci abilita la connettività di tanti oggettini con la densità di un milione al chilometro quadrato per quanto riguarda l'internet e le cose dobbiamo pensare che lo stesso debba cadere anche per la connettività dei veicoli quindi i veicoli dovranno essere in grado di connettersi in un lato e in condizioni di prossimità più o meno spinta dovranno essere in grado di connettersi con l'infrastruttura per fornire anche informazioni a chi gestisce un'alternato stradale o un centro di controllo che gestisce delle operazioni. Ecco, a questo punto si inneste il progetto Emerge come dicevo, noi siamo partiti nel 2018 anche se siamo un'ultima attività e spenderai due parole per un minimo di accountability perché nella scheda che abbiamo presentato per la concessione del finanziamento noi abbiamo mescolato i due assi in separazione di e dei quello che fa riferimento allo sviluppo tecnologico, alla ricerca e quello che fa riferimento all'altaformazione e direi che anche abbalendoci del fatto che era partito un progetto in precedenza come Incipit, quindi in una logica di integrazione quantomeno a livello universitario possiamo dire che dei risultati ci sono quindi sulla formazione abbiamo cinque studenti di dottorato attivi già su questo tema, altri verranno reputati ci sono numerosi lavori di tesi e soprattutto c'è anche un lavoro di connessione con le scuole secondarie che farà sì che i temi di cui parliamo entreranno nei programmi di orientamento e di dottoraggio che connettano l'università alle scuole secondarie se parliamo di attività possiamo dire che abbiamo riscontrato nell'ultimo anno accademico un significativo incremento delle istruzioni nei corsi di laurea triennale che hanno a che fare con questo tipo di contesto quindi parliamo di ingegneria di informazione, ingegneria industriale e informatica e su questo noi stiamo insistendo anche per potenziare lo sviluppo dell'università abbiamo ovviamente invitato dei colleghi uno nel 2018, un altro ci raggiungerà tra poco come visiting professor abbiamo in termini di attività anche ottenuto un finanziamento per reclutare un RTDA cosiddetto in ingresso quindi il vincolo è che questo ricercatore che andremo ad assumere dentro quest'anno non sia stato residente negli ultimi anni in zona di transizione quindi in particolare in appruzzo e stiamo cercando di attrarre il livello internazionale ecco abbiamo tutti i corsi di studio pertinenti con questo progetto che sono corsi di studio internazionale di lingua inglese con una forte mobilità di studenti nostri verso l'estero e anche una significativa capacità di attrazione di studenti stranieri verso il nostro territorio ovviamente stiamo insistendo sul reclutamento di ricercatori abbiamo già 4 segnisti di ricerca che assumeremo come dicevo stiamo procedendo anche ai reclutamenti di ricercatori a tempo determinato abbiamo un significativo set di collaborazioni scientifiche e industriali quelle scientifiche sono direi un mandato dell'università quelle industriali come abbiamo visto in altri progetti possono apparire meno scontate e costituiscono sicuramente in questo caso il risultato di un impegno profuso a sollecitare le aziende che erano presenti già sul territorio quindi di cui parliamo? Parliamo di Telespazio che ha nella piana del Fucino uno dei due centri di controllo della costellazione Galileo e Galileo sarà un asset fondamentale nel mondo sviluppo dell'economia e per quello connesso abbiamo Leonardo, abbiamo altre piccole aziende, abbiamo consorsi e abbiamo riscontrato nell'arco di un anno l'interesse dell'Agenzia Spazio Italiana con cui abbiamo sottoscritto una convenzione dell'Agenzia Spazio Europea di cui ho parlato già i colleghi e anche dal GSA che è l'agenzia della Commissione Europea che si occupa di localizzazione e che in fondo gestisce il programma Galileo non voglio dirvi oltre, per parlare di attività in corso faccio riferimento allo use case sul veicolo connesso che ci vede coinvolti in sperimentazione 5G questo è un esempio di collaborazione che si è estaurata effettivamente anche con il centro di cerche Fiat che poi attraverso il gruppo FCA ha una presenza importante nell'assetto regionale perché la Buzzo è sede di un importante centro di produzione di veicoli commerciali leggeri che sono educato e su quelli ci stiamo concentrando tra una settimana saranno operativi all'Aquila due veicoli commerciali equipaggiati con CPE, quindi con sistemi di trasmissione 5G che saranno in grado di connettere all'infrastruttura di rete che è stata dispiegata nella città l'università sta contribuendo nell'arricchire lo scenario di teste con degli strumenti di simulazione che faranno sì che presso un centro di controllo possano essere raccolti i dati che verranno dai due veicoli che saranno in campo e da un insieme di una popolazione di veicoli che saranno simulati in uno scenario di mobilità e che potranno fornire a un sistema di supervisione e di controllo automatico gli elementi per elaborare e per identificare delle eventuali situazioni critiche e riadattare su base individuale il piano di mobilità all'interno dell'area interessata ad un eventuale veicolo ecco, questi sono già degli snapshot degli strumenti che utilizziamo e questa è la PAN, il veicolo dell'università che ha visto alloggiati gli apparati di trasmissione 5G ecco, al posto di questo ci saranno due veicoli commerciali del centro Cicchi Fiat e di qui a un anno noi pianifichiamo di avere alcuni veicoli sviluppati in campo del progetto Emerge operanti in città quali sono le sfide? rapidamente per abilitare la guida del futuro ci sarà bisogno di connettività a bassissima latenza e pervasiva ci sarà bisogno di localizzazione con accuratezza centimetrica e certificata perché ovviamente non possiamo pensare che un qualunque spoofing vada a compromettere la mappa che un veicolo dell'autoriceale che un veicolo si trova a vivere e tutto questo trasversa appunto il discorso della sicurezza perché abbiamo visto che partendo da un approccio classico nel mondo dell'automotive si costruisce il veicolo poi si cerca di connetterlo con l'esterno e i buggy fanno sì che il primo hacker che passa prende il controllo dell'autovettura quindi questo sarà un aspetto fondamentale allora qual è lo scenario della ricerca in cui ci muoviamo? è questo qui noi stiamo parlando di questo pillar dove l'università ha già sviluppato e svilupperà sempre di più le sue competenze scientifiche nell'ambito dei tre filoni di cui ho parlato ma ovviamente stanno emergendo temi molto interessanti sulle architetture e software di bordo stanno emergendo temi molto importanti in termini di strategie intelligenti basate su machine learning per riconoscimento di eventi significativi e quindi per guidare la navigazione e a fianco c'è il progetto di sviluppo industriale che adesso è proprio in fase di avvio abbiamo percorso tutta l'istruttore con l'inistero sviluppo economico tutt'altro che banale e che vede coinvolte le aziende del territorio delle quali vi ho parlato quindi di fatto c'è stato un ingaggio su questo tema sfidante con Leonardo e Telespazio e a fianco c'è il progetto di GVF che ha incluso per la prima volta l'Abruzzo tra le regioni sede di innovazione tecnologica nell'ambito dei veicoli proprio grazie all'iniziativa del progetto Avenger quindi questo noi riteniamo un risultato molto 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 importante e l'attività non si ferma qui perché c'è tutto il mondo ferroviario in evoluzione se viaggiamo sulla linea di alta velocità la mobilità dei treni ormai è regolata da un segnalamento che viaggia sul GSM ferroviario tecnologia di telecomunicazione di 30 anni fa e chiaramente questo non è più sufficiente per gestire la mobilità di un numero crescente di compogli e tutti gli operatori ambito ferroviario stanno decidendo di andare su rete pubblica prendendo 5G a riferimento Shift to Rail è un'iniziativa europea nella quale non siamo presenti attraverso Radio Ops per cui per concludere noi non siamo economisti di professione però provando a inquadrare anche sull'asse temporale le operazioni di cui ha parlato il collega io dico che guardando l'università e basandoci appunto sui fondi disponibili al progetto Restart per Incipit e per Emerge noi abbiamo potuto attivare un primo ciclo di attrazione verso aziende che non erano presenti sul territorio e adesso attraverso Emerge abbiamo avuto la possibilità di attivare un secondo ciclo di coinvolgimento di aziende che erano presenti sul territorio e che adesso sono committed sui temi di ricerca legati alla mobilità e tutto questo nell'ambito del contesto internazionale che ha appunto le agenzie spaziali di cui parlavo come elementi di riferimento vi ringrazio per l'attenzione e sono disponibile anch'io per fornire ottima informazione grazie